e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono billy oggi siamo qui nel primo episodio della vita reale su minecraft allora oggi come primo episodio andremo a scuola insieme a giovanni saluto giovanni ciao allora giovanni intanto per iniziare ma te ce l'hai la merenda per andare a scuola io non mangio ma non puoi andare tieni ecco ti do vieni vieni no tieni un panino col prosciutto così se hai fame e te lo mangi è crudo vero che il prosciutto gran biscotto si 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 un prosciutto buono ecco e hai dei soldi vabbè non te li do i soldi sono miei allora vabbè andiamo a scuola come cresciamo anche il ritardo insomma vieni buongiorno la prof è già qui mettiamoci i banchi mettiamoci i banchi giovanni mi metto all'ultimo buongiorno prof buongiorno alunni oggi ci sarà la maestra d'italiano perché dovremmo fare un po di geografia ma lì ma lì ma lì ma lì ci sono i quiz cosa sono quiz quelli da fare ehm sì chi è che andiamo a vincent dai vieni giovanni vieni alla lavagna vieni qui vieni qui vieni qui vieni 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 allora tu mi devi ritrovare ora qual è il materiale di carbone dai giovanni ce la puoi fare vai indovina dai vieni indovina indovina giovanni no giovanni 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 entra subito dentro la scuola giovanni entra subito prof ma devi capirlo giovanni è il mio amico però è da poco qui lui non capisce l'italiano lui è lussemburghese lui non cioè gli insegnerò io l'italiano è pure ubriaco allora giovanni ascolta me tu qui sta qui ecco stai lì nell'angolino bravo rispondo io prof aspetta ok mi deve trovare qual è il carbone dopo che hai stato cotto dal dal basta giovanni basta le mani lì all'angolo e girati allora il carbone il carbone quello fatto dal legno però sì ma prof sono tutti rigirati male io non riesco a capire se oggi giovanni rimani lì eh sennò prendo la giovanni no basta 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 giovanni basta giovanni non fare chiamare il presidente rimani qui all'angolo no su serio giovanni giovanni basta mettiti lì all'angolo e guarda il tuo compagno allora basta prof basta prof non gli dia non gli dia non gli dia come io voglio imparare no imparerai dopo giovanni aspetta un attimo mettiti lì alla cattedra della cattedra stai lì ok giovanni aiutami anche te qual è il carbone io riesco a capire perché questa qui il carbone è quello questo no ma quello fatto dal legno però volerlo in alto a no quello fatto dal legno e quello in alto a destra a te dici però secondo me non è quello perché vediamo che quella una forma così tra non dipende il carbone ah ma questo ok 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 basta basta va bene allora io questo è il carbone questo è il carbone è quello in alto a sinistra prof ho indovinato alto a sinistra ripeto qual è il carbone fatto dal legno il panino col prosciutto crudo chi è che ha preso euro il palino con le opra prof un euro grande ai 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 prof e manesco il prof e manesco giovanni giovanni scappiamo in casa il professore non ci troverà mai dentro casa entra subito dentro scuola subito ma dove saranno ma vai corri 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 non ci troverà mai entro ok 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 giovanni questa è la prima di entrare a casa chi è chi è ok 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 prof ok prof ok prof ok prof allora giovanni 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 fa il serio ok giovanni te te intanto gira per la scuola vai nei giardini ok vatti a divertire ci sono i giardini però non rompere niente mi raccomando se no chiama il presidente ok ora ora ti devo fare una domanda più difficile che io ho mai chiesto al mio annuo ha preso vabbè gli poteva fumare qual è il carbone questo questo è il carbone ora ti devo fare la domanda più difficile che io ho mai chiesto a una persona giovanni quanto fa 2 più 2 allora è una domanda abbastanza difficile 2 più 2 dice dimmelo si subito non perdiamo tempo aspetti eh mi faccio fare i miei conti con i miei euro allora un euro due euro tre euro quattro euro quattro euro quattro 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 ma il preside non c'è chiudiamo il prof fuori ok allora adesso il prof ci farà una lezione giovanni sediti questa volta ascoltiamo la prof il prof cioè non so non ho ben capito ok prof giovanni ragazzi abbiamo cambiato il professore perché dice che gli fa male la testa quindi abbiamo cambiato il professore non si sale sui banchi chi è questo nero affumicato oddio è venuta una profemmina strano ascoltiamola ragazzi oggi mi dovete dire da dove viene questa bandiera da quale nazione africa ripeto da quale nazione nazione emirati arabi ragazzi voi non siete degno di lavorare ora chiamerò il preside e lavorare ho capito ho capito ho capito prof prof arriva il nuovo compagno arriva il nuovo compagno arriva il nuovo compagno ora giovanni ha fatto venire un suo amico ci abbiamo ritardato ci abbiamo ritardato in classe una ne... una... una nera volevo dire prof è arrivato una nera parla va bene dai ce la voglio a parlare ma anche lei è manesca oddio ho visto un bianco ho visto dei bianchi vabbè io chiamo al preside voi non siete degni di lavorare chiamo al preside ragazzi che succede qui mi ha chiamato la professoressa femmina lì oddio ma il preside oddio il preside rimani lì in castito ti elimino per tutto il giorno non verrai più a scuola espulso per due giorni allora vai no basta giovanna vai vai nella mia ok basta ok ho deciso di buttarvi fuori no ci hai buttato vero fuori no però allora ragazzi questo primo episodio finisce qui ringrazio Flavio e Giovanni salutate di niente ciao arrivederci arrivederci non è che dovessi andare così l'episodio gli avevo chiesto di essere seri ma non ce la fanno quindi più che altro Giovanni non ce la fa però vabbè quindi vabbè però suggeriteci cose nel cioè per il prossimo episodio arriviamo a 10 like bella che 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 vi